Bianca Guaccero una vera sorpresa a Ballando con le stelle. L'attrice è una delle concorrenti della 19esima edizione del programma condotto da Millie Carlucci e insieme al maestro Giovanni Pernice ha davvero impressionato pubblico e giuria con le sue esibizioni. C'è una grande affinità tra i due e si vocifera persino di un possibile colpo di fulmine. Dopo una performance di danza con bacio incluso Bianca ha dichiarato noi abbiamo un'incredibile affinità l'alchimia non si può creare vedremo. Recentemente il ballerino e l'allieva sono volati in Puglia per una breve pausa dalle estenuanti prove del programma e lì Bianca ha presentato Giovanni alla sua famiglia siamo appena tornati dalla Puglia ho portato Giovanni nel mio mondo gli ho presentato amici e famiglia è stato bene aveva bisogno di una pausa. Guaccero è originaria di Bitonto in provincia di Bari e dopo alcuni anni trascorsi a Roma ora vive a Milano con sua figlia Alice nata durante il suo matrimonio naufragato con il regista Dario Acocella. L'appartamento della concorrente di Millie Carlucci è sobrio ma ricco di dettagli particolari che lo rendono unico. Bianca Guaccero vive a Milano insieme a sua figlia Alice Acocella. La posizione esatta della sua casa non è chiara ma sappiamo di più sugli interni perché la concorrente di Ballando ha spesso condiviso foto sui social. Sul suo profilo Instagram ad esempio abbiamo potuto ammirare il suo soggiorno una parete verde petrolio accanto a una parete in mattoni a vista uno stile industrial chic a cui ha aggiunto delle poltroncine in legno quelle dei cinema di un tempo tutte rifoderate e di colori diversi. Il parquet è presente in tutta la casa così come i mobili di stili diversi ma ben mixati. La camera da letto della proprietaria ha carta da parati con finti mattoni e un grande letto contestata in tessuto mentre quella di sua figlia ha pareti rosse e due grandi lettoni. In ogni stanza non mancano le foto di Fabio.